Oggi è stata davvero una giornata storica per l'area metropolitana di Napoli, per Castellammare, per il sud Italia, per il paese, per il Mediterraneo, il varo di una nave così imponente dove hanno lavorato centinaia di lavoratori e di lavoratrici, l'orgoglio di un'azienda storica del nostro golfo che è la Fincantieri di Castellammare di Stabbia, quindi credo che sia una giornata importante per l'Italia, per il lavoro, per la tecnologia, la competenza, la passione e la capacità di fare squadra che in alcuni momenti questo paese sa realizzare, quindi da sindaco della città metropolitana sono particolarmente orgoglioso di questo giorno, è una vittoria del mezzogiorno che fatica con competenze e passione.